E questo è lo che ti sento di dire quando andando avanti. Ripreso! Basta! Non mi faccio passare, non mi faccio passare, non mi faccio passare, non mi faccio passare, guardare avanti e sentire la nostra gente e il popolo di Ponte. Un saluto ancora e un augurio di Ponte a Pantone, ha cercato Giorgetti! Noi siamo anticomunisti, il comunismo lo abbiamo vissuto in carne propria, viviamo ogni giorno i massacramenti dei nostri cubani e non vogliamo che arrivi qua in Italia il comunismo. Noi siamo anticomunisti, siamo la portazione per la vita, siamo l'affariato. Allora, prima di dare la parola al capigruppo, e questa è una cosa semplicemente eccezionale, qua sotto fate un applauso a una piccola parte, e inserita c'è dagli uomini della lega. Vi dico voi siete comuniste per cose lette e offensive, noi siamo anticomunisti perché non comuniscono. Sì, ma non è quanto lo penso, non è quanto lo penso. Sì, ma lei però prima l'arriva di... A tutti che non vadano dietro alla dottrina comunista che c'è. A quelli che mandano i soldi ai dittatori, quelli che in ogni modo stanno proprio propiziando che la nostra patria sia perfezionata in ogni modo. E per questo noi lo siamo in pieno, siamo qua per confermare che siamo con i cittadini, siamo con la lega e siamo con il comunismo che fa lo padre. Grazie, fate un applauso ai ministri e ai governatori della Lega. Basta, basta!